Il mio personaggio nel film è il ragazzo invisibile. Come dici la parola, ragazzo invisibile. Io nel film sono Candela, la migliore amica del protagonista. Candela, per favore! Sono vestita da ape, ronzo qua e là. Che fai? Stella nel film sarebbe quella che io sono innamorato di lei nel film. Chiama Stella ed è in classe con vari ragazzi che poi nel film saranno i personaggi principali, o almeno i veri protagonisti. Come dice Gabriele? Sono molto simpatici gli altri attori della mia vita. Faccia fuori soldi! Allora, Brando è il bullo, che nel film io lo odio, ma in realtà è una persona che io adoro. Non dovresti essere nemici adesso? No, sì. In teoria. Poi c'è Filippo, che fa il secchione, cioè gli copio solo i competi di matematica. E nella realtà anche lui mi sta simpatississimo. Riccardo è l'altro bullo, che sempre nel film lo odio, nella realtà mi sta simpatississimo. Sempre è quello. All'inizio ho fatto dei provini e poi mi hanno detto, devi fare il film. No, nel senso, non me l'aspettavo. Cioè almeno per me è la prima volta, non so per gli altri. Ti cambi, ti danno i costumi di scena, trucco e parrucchiello, i capelli. Però un po' i capelli mi fanno un po' male, cioè che... Fai delle prove e poi si giro. Poco prima del ciak mi danno delle indicazioni per farmelo fissare in testa. Soprattutto le emozioni, mi dicono. C'erano 3.000 persone dietro alla telecamera. Io non mi pensavo che dietro a un film ci fossero tante persone, soprattutto dietro alla telecamera tutti quanti ammassati. Perché adesso facciamo una scena e quindi mi svolcano. Ma questa è la bellezza del set. La signorina Noa ha finito il film. Girardello deve fare ancora una roba. Finalmente finito il film. Grazie a tutti! Grazie a tutti!